Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco, Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Grazie a tutti. Ben Bang, di colpo lei, Ben Bang, a terra mi gettò. Non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento, 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò. Ben Bang, di colpo lei, Ben Bang, lei si voltò, Ben Bang, lei mi baciò, Ben Bang, e a terra mi gettò. Sempre al mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà. Sempre al mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà. E a vent'anni all'improvviso senza dirte che né dove se n'è andata. Lei mi ha ucciso come fosse un colpo al cuore. Ben Bang, di colpo lei, Ben Bang, lei si voltò, Ben Bang, di colpo lei, Ben Bang, a terra mi lasciò. Sempre al mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà. Sempre al mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà. Sempre al mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà. Chi quei colpi sparerà. Sempre al mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che da me è cos'è la vita senza l'amore. E' solo un albero che voglia e non ha più. E' tanto un vento, un vento stretto. come le foglie di queste grandi volate. Ma questa vita cos'è se manchi tu. Mi sento una farfalla che sui fiammi non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco dal tuo grande amore che ti spente già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mi hai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore. E' solo un albero che voglia e non ha più. E' solo un vento, un vento freddo. Come le nuove le speranze tutte giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu. Non mi metti più, che freddo fa. Il numero per i vostri messaggi qui in diretta. Grazie innanzitutto di essere qua. D'Alessia Chelucci, ciao. Prego, grazie a te. Sei pronta? Pronta, pronta. Abbiamo già iniziato con due brali, ragazzi. Bang Bang degli Equipo 84. Poi abbiamo interpretato Nada. Ma che freddo fa. Sì, diciamo che a marzo speravo di non cantarla più, pensando che fa un freddo fuori incredibile. Eh, ma siamo solo a marzo. Siamo a metà marzo. Diciamo che fra 15... Fra una settimana e primavera... Sì, lunedì. Esatto, è giusto che ci sia un meno tre. Il primo giorno di primavera cantava quel gruppo anni 60, che è un brano che mi è venuto in mente adesso che potremmo mettere in onda. Lo famo, lo famo. Ragazzi, fatevi sentire. Siamo inizio settimana. Dobbiamo iniziare la settimana alla grande. Abbiamo bisogno della vostra carica, del vostro entusiasmo. Mi raccomando. Il numero è sempre questo qui. 348 80 40 254. Adesso, mia cara Chelucci, abbiamo fatto un brano anni 60, un altro molto anni 70. Adesso restiamo su quegli anni, perché arriva un brano dei Collage. 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 Tu mi rubi l'anima. Eccolo qua. Mai. Grazie. Mi appena. Perfetto. No. Ma non sei tu. Ma non sei tu. Agli occhi tristi come te, ma non è te davvero, sa un profumo come il tuo, ma non sei tu, ma non sei tu, le ciglia lunghe come te, ma non è te sicuro. Quando la notte lei si strisce a me, se il mio corpo c'è, la mente è dietro a te, tu mi rubi l'anima, ma poi la genti via da me. Io la inseguo e trovo sempre te, fatemi sentire di più! Tu mi rubi l'anima, e poi non so che te ne fai, mentre cerco di riprenderla, chi muore un po' nel cuore sopra lei. Lei queste cose non le sa, non credo che le le dirò, lei crede solo a quel che ha, ma non è sicuro. Ho visto rondimi laggiù, cadere giù, cadere giù, erano sole come me, che notte davvero. Quando nel letto dorme accanto a me, segno al corpo c'è, la mente è dietro a te. Tu mi rubi l'anima, ma poi la genti via da me, io la inseguo e trovo sempre te. Dai amici a casa, dai, insieme! Tu mi rubi l'anima, e poi non so che te ne fai. Se il silenzio ho spazi liberi, stasera io riempirò di... Vorrei riempirle di tutti i vostri messaggi, i miei spazi liberi, questa sera. Te... Te, dopo, arriva dopo, arriva dopo. Insomma, ci siamo, ci siamo, tolgo anche un po' l'eco, se no altrimenti mi sembro up up, che già sono vestito in bianco qui. 348-884-254, il numero per i vostri messaggi, ma... Dobbiamo fare una dedica, mia cara Cheluci, ma visto che mo' la canti tu, è stata richiesta a te, la dedica la fai tu. Allora, facciamo questa dedica alla pizzeria La Civetta. Che luci vuoi? Rosso, bianco, blu o verde di sfondo? Dai, io... Rosso, bianco, blu, verde? Gorgo e mele. Ma cosa c'è? Le lucine dietro, le lucine dietro, va beh. Va lo stesso. Ok. Sono tutte belle. Geki e vampiri, Gerardina Trovato, per voi. Una vita normale, la mattina col sole Non l'avevo fatta mai Mi svegliavo la notte come ciechi e vampiri Trosgessione o solo tu Stavo sempre uno schifo con la gente sbagliata In un mondo che nel mondo non c'è E col tempo anche i sogni Si fanno i bagagli Un bel giorno non li cerchi più Ma chi sei? Ma chi sei? Specchio specchio delle mie brane Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sono la strega di bianca neve Dimmi che, dimmi che Non tornerò mai come ero prima Dimmelo perché Perché voglio di nuovo trovare La strada che tu avevi scelto per me Ci vorrebbe una storia Veramente importante Che ganciavi tutto quanto così Ma più cerchi qualcosa E più l'altro di niente Ma questo non è da tempo si sa Ma un giorno qualunque In un posto tremendo Vedo quello che mi piace sei tu Quando credevo di aver finito I giochi e vampiri non ci sono più Ma chi sei? Perché non resti anche la mattina Te ne vai, te ne vai Mi fai tornare dove ero prima Ma perché, ma perché? Invece di giocare ancora Non diventi giocare ancora Non diventi mio Perché ma se può fare più luce del sole Anche stando qua giù Perché voglio di nuovo Una vita un po' meno sbagliata E la voglio con te Stiamo correndo molto veloci questa sera Già ben quattro brani nel primo tempo E sai cosa ti dico? Ce ne sta un altro Ce ne sta un altro prima di andare in pubblicità Abbiamo tre minuti, sì Ricordandovi però che il numero per i vostri messaggi è sempre uguale 348 80 40 254 Fatevi sentire Fateci leggere tutte le vostre idee I vostri saluti I vostri compleanni Vogliamo sapere tutto di voi Che numero di scarpe portate? Due di solito, due Da destra, a sinistra 35 e 38 Perché tu viaggi dispari? Io voglio fare adesso, mia cara Alessia Un brano, un brano del nostro amico Pupo Cosa farai ora che tu vai via? Dimmi cosa farai? Cederò alla pazzia Pazzia? O follia che sia Non ricordo Eccola qua Cosa farai ora che tu vai via? Dimmi cosa farai? Cederò alla pazzia Per scordarmi di te Farò il diavolo a tre Sarò forte domani, vedrai Sarò forte Cosa farai se dormire non puoi? Dimmi cosa dirai alla gente di noi? È finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento Quando sognavi con me la tua casa? Già ti vedevi vestita di rosa Vicino a me ti sentivi sicura Senza problemi e senza paura Come una stella brillare in un'ottima cosa? È finita così e mi sentivi sarai Come una stella brillata di eri mia? Correva forte la tua fantasia Sembrava tutto più bello di un gioco Era l'amore, non era poco E ci di penso, giorno e notte ti penso Niente più strano, mi bastava una mano Ma come un cretino io non me ne accorgevo, tu te ne andavi e io ti prendevo. Cosa farò, mamma mia che disordine, cosa farò, quanti giorni da spendere senza di te, solo a pensare. Quando fermavi minuti e le ore e non sciupare il momento d'amore, come ribella tra quelle lenzuola e la mia mente ancora vola. Quando stringevi più forte il cuscino, dicevi pensa se fosse un bambino, sembrava tutto più bello di un gioco, era l'amore, non era poco. Era l'amore, non era poco, è finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento. Quando sognavi con me e la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa, vicino a me ti sentivi sicura, senza problemi e senza paura. Quando fermavi minuti e le ore e non sciupare il momento d'amore, come ribella tra quelle lenzuola e la mia mente ancora vola. Quando stringevi più forte il cuscino, dicevi pensa se fosse un bambino, sembrava tutto più bello di un gioco, era l'amore, non era poco. E adesso noi ci fermiamo soltanto, soltanto tre minuti, riposiamo un po' la voce, ci guardiamo insieme a voi tutte le attività che decidono di tenerci compagnia durante le nostre trasmissioni, al quale diciamo un immenso grazie, grazie perché senza di voi noi non potremmo di sicuro stare qua tutte le sere in diretta. Quindi se qualcuno volesse far parte della programmazione pubblicitaria di Casa Peretti, ci mandi una mail in casaperetti-chiocciolaretesette.it o semplicemente anche un messaggio al 348 80 40 254 pubblicità. Alessia, prima di andare a leggere tutti i loro messaggi che ci hanno inviato al 348 80 40 254 vogliamo eseguire un brano, un brano di Enrico Ruggeri. Per la prima volta, per di più, in Casa Peretti e il titolo è La vedi là su quel muro? Guarda quanta, quanta... Polvere, tanta, tanta. Allora, dobbiamo dopo la puntata metterci lì e dare una passata. Io devo andare via dopo. Gran, bel, brano, tutto da ascoltare. Per voi, Polvere. Grazie. 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 Piano americano, restioro il tavolo con una mano. Pomeriggio strano, è un desiderio che è fuggito lontano. Polvere, gran confusione, un grigio salone, in quale direzione? Io caccerò la polvere, dai miei pensieri e tanti misteri, con i pochi poteri che la mia condizione evitava. Aria un po' viziata, quella finestra andrebbe spalancata. Tela rovinata e la polizia è tutta consumata. Polvere, troppi ricordi, è meglio essere sorti e forse già tardi per togliere la polvere. Tra gli ingranacci, dai volti dei sacci, con i pochi vantaggi che la mia condizione mi dà. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. Tutti! Non mi cercare, che non mi riconoscerai. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. Polvere, canto in confusione, un grigio salone, in quale direzione? Io caccerò la polvere, dai miei pensieri e quanti misteri, con i pochi poteri che la mia condizione mi portere. Troppi ricordi, è meglio essere sorti e forse già tardi per togliere la polvere. E tra gli ingranacci, dai volti dei sacci, con i pochi vantaggi che la mia condizione mi dà. Polvere, Enrico Ruggeri, adesso eccoli lì. Eccoli lì, ma proprio tutti lì i loro messaggi che hanno mandato al 348, 80, 40, 254. Ma non mi fermate qui. Noi vogliamo leggere ancora, ancora cosa prima? Cosa c'era da di prima? C'era prima, magari c'era qualcos'altro. No, prima no, no. Adesso, proprio adesso i loro messaggi. Proprio tutti, eh. Vai Enrico in regia. Che giacca ragazzi, pure abbinata con la cintura, quasi, quasi addirittura. Ti sposo Valeria da Brandizzo, siete grandi come al solito. Grazie Valeria, grazie. Ma parliamone sullo sposarsi, eh? Parliamone. Bastava una giacca, vedi? Casa Peiretti ha tutte le sfumature dei colori e da ognuno di essi nasce una canzone. Baci brillanti, Dani. Grazie Dani, grazie. A proposito di freddo, oggi a Bobbio, un salutone, Luisa, Fulvio, Torre Pellice. Beh, è una caratteristica, è vedere la primula che spunta dalla neve. È una cosa che solo su di qua, bello. Buon inizio settimana amici, rientrati a casa finalmente sotto una copiosa pioggia. Alfonsino e Germano timbrano la presenza anche stasera. Grazie ragazzi, grazie. Saluto a tutti quelli che mi conoscono, Carla, non riesco a vederla tutta, non importa, rivivrai nel momento, quel momento ogni volta che l'ascolterai. Buona serata a tutti, grazie Carla. Ciao Carla, grazie. Di sicuro ci sono scritte cose belle anche lassù, ma purtroppo non le vedo. Ciao, avete una bellissima voce, potete cantare Cinque giorni che ti ho perso. Angelica, l'abbiamo fatta venerdì. La puoi ritrovare su YouTube digitando Casa Peiretti, andando in ordine cronologico, è l'ultima puntata che abbiamo caricato. Ciao ragazzi, eccomi a nonna Dorina, buona serata da Gabriele Antonio, domenica, ciao Dorina. Buona serata Gabriele Antonio, domenica, ciao. Sempre in prima fila, pronta per una nuova settimana insieme, un abbraccio grande, Tiziana da Torino. Ciao cara, grazie. Ciao Tiziana, grazie. E questi? Casa Peiretti, splendida voce di Alessia Chelucci, complimenti a te Enrico che sei fantastico. Volevo ringraziare questa bellissima ragazza Elisabetta per la foto che ha la polisportiva San Pietro Vallemina, Talucco, che hanno un'ottima birra alla spina. Bene, fa piacere, andrò a trovarli. Chi non l'ho mai vista in giro, la birra inchiusa. Non possiamo dire tanti nomi, comunque ciao ragazzi, grazie. Che bella birreria, che bella ragazza, che bel ragazzo. Tutti belli questa sera, la coppia più bella della televisione italiana. Non esageriamo. Alessia e Enrico, ma la zia Marta non ha ancora capito se sia veramente la zia di Alessia, le assomiglia parecchio. Un buon inizio settimana dal vostro amico Cristian, ma sono lontanamente parenti, ma proprio lontanamente, no? Ciao Cristian, rimani nel dubbio. Ciao Enrico, me lo fai un saluto agli amici Ribotta da parte di Diego e Guido. Ciao Diego, ciao Guido, ma che bello. Oggi li ho incontrato dai fratelli Ribotta, Diego e Guido, che poi alla fine sono una persona sola. Però non sanno bene se si chiama Diego o Guido. Non ho capito. E poi te la spiego. Per una volta sei più in tiro di Alessia, ma bravi tutti e due. Grazie Germana, grazie. È vero, non me lo aspettavo. Anche Feiretti ogni tanto sfoderà. Famiglia Feiretti, sempre musica dei nostri tempi. Alessia, sei grandissima e bellissima. Vi mando un grosso abbraccio a Maurizio da Villadossola. Grazie a te Maurizio, grazie. Grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ma io non leggo più stasera. Scusami, scusami, che devo scaldare la voce. Vai, leggi tu, leggi tu. Ciao Enrico, ciao Alessia. In questa tristezza infinita di questo pazzo mondo, meno male che ci siete voi. Che almeno per un'ora ci rallegrate un po'. Grazie, un bacione a tutti voi, regia compresa dalla Family Fava. Ciao Family Fava, grazie, ciao. Ciao da Roberto, da Gaglianico e un saluto al mio collega Renato di Andormo Micca. Ciao. Col pollicione in su, bene. Mi sa che stavo andando per funghi perché buon lunedì ragazzi, il lunedì è più leggero però con voi. Poi stasera Enrico mi hai tirato fuori una bella giacca da febbre del sabato sera. Meglio, meglio di John Stravolta. John Stravolta, sì. Stravolti siamo, stravolti sicuro. Finalmente lunedì perché adesso ci siete voi a tenermi in compagnia con le vostre canzoni. Un abbraccio. Ciao Olga, grazie, ciao. Ciao Enrico e ciao Alessia. E sì che fa ancora freddo, meno male che ci siete voi a scaldarci il cuore. Un abbraccio da Iatri. Ciao Iatri, grazie di cuore. Ti vogliamo bene tra un po' tocca a te. Ciao, sono Elisabetta di Bra. Complimenti per la trasmissione e soprattutto per le bellissime canzoni che ci legate. Siete bellissimi. Un forte abbraccio a tutti voi. Un saluto grandissimo alle mie amiche, Maria, Antonietta e Chiara. Un bacione alla piccola, Giorgia. Ci uniamo noi. Ciao Giorgia, ciao Antonietta, ciao Chiara e grazie Elisabetta per aver mandato questo messaggio qui in Casa Piretti. Presenti anche noi. Buona serata, Betta e Tino. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, vai. Leggine uno tu perché se no puoi dici che leggo solo io. L'unnedì è più leggero però con voi. E forse questo l'avevo già letto. Enrico, la sto cantando anche io, Maurizio Villadosso. Quale, quale canzone che ne abbiamo fatte così tante già questa sera. Vecchio Kelu presente. Ciao ragazzi, è sempre un piacere sentirvi. Grazie, un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Grazie. Ciao ragazzi, volevo farvi complimenti per il tempo che ci dedicate. Un bacio da Angelo, grazie a te. Grazie Angelo. Ma non è che noi dedichiamo tempo a voi. Noi siamo contenti se voi dedicate tempo a noi. Complimenti per la giacca scintillante come le vostre voci. Moreno. Da Rapallo. Dov'è che è la Rapallo? Rapallo è al mare comunque. E vicino al mare. Vicino al mare. Rapallo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Rapallo. Vi seguo sempre. Siete a me vita. Siti e a me vita. Un saluto da Peppe Auro. Ciao Peppe. Ciao Auro. Siete a me vita. Siti a me. No, non so che non ho capito bene. Comunque grazie. Bravi. Riproponete bravi che quasi non ricordo più. Tu mi rubi l'anima. Purtroppo molti non sanno di averla ancora. Un'anima. Dobbiamo tornare a sentirla forte dentro di noi. è giusto e da lì trarne forza. Vi vogliamo bene. Grazie a dei Total Black. Grazie cara. Grazie. Un saluto a tutti i Total Black. Ciao ragazzi. Le vostre canzoni sono bellissime. Un abbraccio Sofia. Un abbraccio a te cara. Ciao sono Fabrizio. Vorrei ascoltare una canzone di Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto e vorrei dedicarla a mia moglie Antonietta e a mio figlio Michael. Grazie. Vi seguo sempre. Siete un'ottima compagnia. Ciao. La mettiamo in programma. Domani sera. Un brano che a me piace tantissimo. Ti scatterò una foto. Ma buonasera. Finalmente siamo lì. Come dice il mitico Pupo. Cosa farò quando manca la Che Lucci? Guardo Ciri Ciri Bimbi. Come a nipote. Giusto. Bravo Antonio. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando da Susa. Ciao. Fagli fare un disegnino a tuo nipote che lo mandiamo in onda. Eh certo. Un abbraccio. Ciao ragazzi. Grazie per la bella musica che ci fate ascoltare. Enrico con quella bella giacca bianca stai benissimo. Valla la giacca. Valla miseria. Che furor di popolo. Che plebiscito che ho avuto oggi con la giacca. Venerdì vengo con la giacca anch'io. Eh non vale. Eh non vale. Siete bravissime. Grazie per le canzoni anni 60. Ciao Enrica. Grazie. Ciao. Ciao e buona serata. Vorrei dedicare la canzone La guerra di Piero di De Andrè sperando nella pace. Ferruccio da Novara. Non la so Ferruccio ma la imparerò. Speriamo che la sappia. Forse Luciano. Luciano Bianchini la sa. Quindi te la mettiamo in programma per venerdì. Fatemi un pezzo contro la febbre. Un saluto a voi anche a Moreno di Rapallo contro la febbre. Cosa possiamo cantare contro la febbre? Possiamo dargli un'aspirina. Ti regalerò un'aspirina. Eh sì. Cosa del genere. Ricordiamo che siamo rigoramente in diretta. Sono le 20 e 37 minuti. Approfittate nel 348 80 40 254 per mandarci i vostri messaggi. Adesso arriva una canzone importante. Una canzone dedicata a tutti i papà all'ascolto. Perché mio padre è un re. Ma anche suo padre è un re. Tutti i papà sono dei re. Mio padre è un re. Eccola qua. Non ho un'età. Mio padre è un re. Mio padre è un re. Vivo in un grande castello lassù. Mio padre è un re. Ho un letto d'oro. Due occhi blu. Ma non so dirti che nome ho. Un giorno poi. Dalla finestra. Quella più alta e più stretta che ho. Ho visto lei lunghi capelli. L'ho disegnata in me così. Lei mi guardò. Lei mi chiamò. Quanta paura ho. Perché? Io da qua su. Dalla finestra. L'aspetto e arriva col sole qua giù. Raccogna i fiori. L'uva per me. Corre nel prato di Dio. E Dio qua su. Semmai amore conoscerò. Solo è di luggine. Io vivrò. Non avrò, non avrò, non avrò. Un giorno io non avrò. Non avrò più paura. Ah. Anche se io non posso parlare e giocare con lei. Perché mio padre è un giorno io non avrò. Non avrò più paura. Anche se io non posso giocare e parlare con lei. Perché mio padre è... Ma io so, ma io so, ma io so, ma io so che per lei prima o poi scavalcherò le mura. Io per lei sono lei e per lei che adesso vivrò. E non avrò più paura. E non avrò paura. E non avrò paura. Non avrò, non avrò, non avrò, non avrò un giorno io non avrò. Non avrò più paura. Ma io so, ma io so, ma io so, ma io so che per lei prima o poi scavalcherò le mura. Io per lei sono lei e per lei che adesso vivrò. E non avrò paura. E non avrò paura. E non avrò paura. E non avrò paura. E certo deve essere così che a fianco, a fianco a un buon padre, mai si potrà avere paura. E adesso pubblicità. Poi torniamo qui. E ancora tanta musica. Voi fermi lì, eh. Vi aspetto. Bentornati amici in Casa Peiretti. Allora, intanto vi ringrazio per tutti i messaggi che già avete mandato, ma ne vogliamo ancora di più. E anche lui ne vuole ancora tanti. Guarda cosa ho trovato. 3, 4, 8, 80, 40, 254. Guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato il dipinto che mi aveva fatto Iatri quando era venuto qui in diretta in Casa Peiretti. Quindi se anche voi volete arrivare a questo livello, eh, dovete fare tanta pratica e tanto studio. Come fare lo studio? Andiamo a vedere la quinta puntata di questo magnifico amico che si chiama Iatri. E ci sta insegnando come disegnare un volto. Eccolo qua. Uguale. Ciao Enrico! Ciao amici di Casa Peiretti! Ben ritrovati! Eccoci di nuovo qui con me che sono Iatri. Iatri Francesco Colangelo. Per questa nuova lezione di due minuti con Iatri. Una lezione d'arte dove vi insegnerò tanti piccoli segreti, tanti piccoli trucchi per fare dei ritratti, delle caricature perfette. Andiamo avanti con la nostra lezione dell'altra volta. Noi cos'è che vogliamo fare? Vogliamo fare questo ritratto qui. Abbiamo visto come si compone l'ovale per costruirlo e abbiamo visto che per fare un volto frontale si tira una linea verticale e una linea orizzontale. Gli occhi sono perfettamente in centro. Ma a che distanza sono gli occhi? Tra un occhio e l'altro occhio c'è esattamente un occhio. Sì, è proprio così. Potremmo proprio disegnare un altro occhio in mezzo tra un occhio e l'altro. E tra un occhio e la fine del volto cosa c'è? Un altro occhio! Né in questa linea centrale, orizzontale, noi potremmo disegnare cinque occhi, lo spazio di cinque occhi. E così abbiamo risolto il problema. E il naso dove si posiziona? Il naso si posiziona esattamente nello spazio tra un occhio e l'altro occhio. Cioè occupa lo spazio di quell'ipotetico occhio centrale che potremmo disegnare. Un'altra cosa importante è dove vanno a finire questi punti qui, che sono gli estremi della bocca. In un volto perfettamente rilassato, gli estremi della bocca vanno a finire, tiriamo delle linee, alla metà del nostro occhio. La prossima volta andremo avanti vedendo altre piccole chicche del codice Aureo, Aureo che serve per realizzare un volto perfetto. Ciao Enrico, ciao a tutti, alla prossima! Aureo che serve per realizzare un volto perfetto. Scendiate di ingegneri hanno inventato già Una generazione di bambole e robot Se questo tipo strano vedrai ti piacerà Più suona la chitarra in una rock and roll band È come un arlechino che non si rompe mai Attacchi la corrente, si accende e partirà Oh, rock and roll robot Oh, rock and roll robot Io ti amo, io ti cerco, io ti voglio Rock and roll robot Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo Rock and roll robot Oh, rock and roll robot Ha dentro un gran computer e quante cose sa Un terminale video che confonderà Lui lavora duro, tu libera sarai Di plastica d'acciaio che non si ferma mai Balletto, balletto, la veretti C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà Mi suona la chitarra in una rock'n'roll band Ha un cuore di bambino che non si rompe mai Attacchi la corrente, vedrai che partirà Oh, rock'n'roll robot Oh, rock'n'roll robot Io ti amo, io ti voglio, io ti cerco Rock'n'roll robot, io ti voglio, io ti cerco Io ti amo, rock'n'roll robot 3, 4, 8, 80, 40, 254 Fatemi sentire, dai Babe, 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 babe Oh, rock'n'roll robot Oh, rock'n'roll robot Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo Rock'n'roll robot Io ti voglio, sì, io ti cerco, sì Io ti amo, rock'n'roll robot Oh, rock'n'roll robot Oh, rock'n'roll robot Robots 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 Che bello, Casa Piretti Questa sera devo dire che abbiamo una scaletta Abbiamo fatto una scaletta, mia cara Cheluci Interessante Ma poi questa canzone a me è sempre piaciuta Abbiamo viaggiato Sì, hai ragione Come danno allegria a tutti i loro messaggi Che ci hanno ancora mandato Al 348, 80, 40, 254 E perciò io voglio ringraziarvi Grazie Perché non sapete quanto Quanto sono importanti Queste parole Questi messaggi che ci mandate Ci tengono compagnia Certo Vai Enrico Regia, vai Così No, cos'è la vita se mancate voi E viva la vostra bravura Addirittura, ma grazie Grazie Pat, grazie, grazie mille Grazie di cuore, grazie Oilla Buonasera a tutti Per fortuna ci siete voi Rino e Lella Da Robilante Cuneo Quando si può Presentissimi Che cari, grazie Mi fa muy, muy fiasi Siete fortissimi Per iniziare la settimana Alla grandissima Paolo Grazie caro, grazie mille Grazie Paolo Un saluto da Ginevra e Tommaso Siete troppo simpatici Ma che cari, grazie Grazie Tommaso Ringraziamo ancora Paolo Anche per questo messaggio Bravissimi amici Bellissimo Ruggeri Ciao un bacio Grazie Mocchi Grazie Ciao Mocchi Ciao Ciao Alessio e Enrico Sempre bravi Ma che freddo fa Marzo Pazzerello Esce il sole E prendi l'ombrella A questo punto cantiamo Scende la pioggia Ma che fa Ci sta No, no, no Basta Sì, ok Ma siamo Siamo positivi Che adesso purtroppo Dire questa cosa qua Non si può neanche più dire Ciao bravissima e bellissima Cofanetto Grazie a tutti i papà A parte di Marco Ti va in onda Tutte le sere Da lunedì Al venerdì Dalle 20 alle 21 Potete rivedere la puntata Alle 23 e 30 Grazie delle dritte Sul ritratto Da Virginia 8 anni Brava Virginia Mandaci Mandaci anche solo un messaggio Un messaggio al 348 80 40 254 Se provi Se stai già provando A disegnare No? E' logico che in 5 puntate È difficile anche perché Il nostro Iatri È molto bravo Perché lui Fa piano piano le cose Non è che ti fa vedere 448 Ciao arrivederci E' così che deve essere Un bravo maestro Esatto Sai cosa ti dico Che luci come chiudiamo Questo brano Voglio dedicare io Un brano al nostro ascoltatore Cristian Perché mi ha sempre detto Che gli 883 Non li facciamo mai E guarda cosa ti canto Questa sera Se te la ricordi E' la storia di uno che Trova una fidanzata E poi non è poi così tanto contento Di averla trovata Perché era bello prima E voilà Bello non ti passa più Te la sei voluta tu Vuoi la bicicletta E poi pedalare Tuoi Livello uno pupazzo patetico Vestito a festa a luna Franzo dai suoi Signora sta una pasta al forno Così non l'ho mangiata mai Livello due l'interrogatorio Ma con mia figlia Ma con mia figlia tu che intenzioni hai Lei ha bisogno di uno serio Spero non ci deluderai Poi di corsa dagli amici del bar Almeno per mezz'ora un po' di tranquillità Ma da come parlano Sembra che mi dicano Bello non ti passa più Te la sei voluta tu Vuoi la bicicletta E poi pedalare E cazzi tuoi Livello tre Le menate da panico Non sei lo stesso Che eri un anno fa Eri romantico Più spesso Sento già che non durerà Livello quattro Gli altarini si scoprono Mollato in tronco Senza dirne anche va Telefonate Notti in bianco Perdita della dignità E io vi saluto con questa canzone Grazie Alessia Cheluzzi Grazie a te Grazie a te In regia Ci vediamo domani per una nuova puntata Con me qua Valentina Branca La sua ricetta La sua voce La sua allegria E se volete rivedere questa puntata 23.30 Grazie a tutti A domani Ciao Ti passa più Te la sei voluta E se volete rivedere questa puntata